partiamo ovviamente dal brano che porti sul palco del festival di sanremo cosa mi puoi dire su questo brano e ti chiedo anche il team di lavoro cioè la lavorazione che sta dietro a questa canzone no perché un team di lavoro esteso ed è un team di lavoro che unisce anche personalità particolari anche di diverse generazioni penso a contessa e pacifico insomma c'è qualche cosa di di spesso no dietro questo progetto per me sì in realtà è un progetto più ampio nel senso che dopo questi due anni questo periodo che come per tutti è stato un periodo di grande isolamento mi è venuta voglia di fare una cosa che non avevo mai fatto cioè di scrivere con altri in realtà io ho sempre scritto con marco buccelli che il produttore dei miei brani ma li firma pure per il per quanto è intensa la nostra collaborazione e però non avevo mai collaborato con degli autori puri di canzoni quali sono Nicolò e Gino quindi sono arrivato da loro con un po' di idee di di varie cose e tra queste c'era tuo padre mia madre Lucia e ci abbiamo lavorato ho lavorato con loro separatamente nel senso che mi sono incontrato con Nicolò poi mi sono incontrato virtualmente con Pacifico che sta a Parigi ci siamo fatti lunghe chiacchierate su Skype e cercavo di 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 mettere insieme i pezzi e poi ho lavorato con Giovanni Pallotti prima che è uno e coproduce poesia e civiltà insieme a me Marco ha prodotto cinque suona con me da da un po' di anni e poi alla fine ci ho lavorato con Marco e poi con Tacheto che non firma il brano ma è uno dei produttori insieme insieme a Marco quindi è stata una lavorazione lunga di cui sono contento perché poi al di là di tutto al di là che il brano mi piace mi piace pure fare questo tipo di considerazione cioè che è un brano che ha degli aspetti molto personali come a volte succede con i miei brani e il fatto però che ci siano delle persone esterne anche alcune che proprio ora mi farebbe piacere diventarci amico ma ci le conosco da poco quindi c'era un po' di pudore nel nel trattare queste cose credo abbia fatto bene alla alla canzone per le canzoni d'amore soprattutto la ehm scriverei la la questione messaggio no perché è una canzone d'amore eh è una dichiarazione d'amore proprio e credo che la la prospettiva che volevamo dare a questa canzone sia io che Nicolò che Gino fosse di eh di una canzone che d'amore che guarda che inquadra questo sentimento eh da da dal punto di vista di un adulto eh non perché non non è una questione di 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 qualità però mi mi sembra che certe che che una certa almeno personalmente una certa complessità delle cose eh l'ho acquisita diventando un po' più grande eh in ma anche questo mi ha portato diventare più grande mi fa mi sembra che mi faccia rendere di più conto di cosa possa voler dire immaginarsi un futuro insieme a una persona e e forse poi il nucleo di questa canzone sta in in quelle parole finali del ritornello quello che sarò sarà con te eh che che a me mi fa pensare pure al matrimonio proprio no eh anche anche il modo in cui la canzone inquadra questo sentimento parlando delle cose no ci sono delle cose belle c'è il corpo c'è la c'è lo spirito ci sono i litigi e nonostante questo e quest'altro e in questo e in quest'altro io voglio stare con te e e questo pure mi fa pensare proprio al matrimonio che è pure un'altra cosa che ovviamente mi rimanda a una a a a una fase anagrafica diversa della della vita durante le prove canto suono la chitarra abbiamo pochissimo tempo questo è un aspetto mocivole stranissimo e anche questo un pochino è è agonistico come come aspetto risembra giochi senza frontiere che devi fare la canzone in mezz'ora c'hai le prove quindi io sto attento a a far perdere il meno tempo possibile al maestro Stefano Nanni che deve tenere in mano tutta l'orchestra e fondamentalmente abbiamo cercato di lavorare cercando eh assolutamente di rimanere uguali a noi stessi parlo al plurale perché appunto se non ci fosse Marco Buccelli in questa esperienza sarebbe molto complicato per me anche perché eh dovendo curare contemporaneamente e in poco tempo tanti tanti aspetti che sono da non lo so il vestito che mi metto a alla musica il fatto che ci sia una persona di cui mi fido totalmente eh come Marco mi mi tranquillizza molto come Marco ma come anche Tacheto ovviamente e Stefano Nanni che è l'arrangiatore per l'orchestra che ehm che Tacheto ha portato nel 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 gruppo di lavoro quindi ti devo dire forse la la cosa più importante è che sono circondato di persone di cui mi fido molto. Remo ha sempre fatto un po' parte dei dei tuoi obiettivi cioè tu era qualcosa che ti prefiggevi nella tua eh nella tua carriera? Ho sempre pensato che cioè non è mai stato il mio più grande desiderio eh ma ho sempre pensato che se avessi avuto l'opportunità di andarci portando me stesso lo lo avrei lo avrei fatto perché mi rendo conto di quanto possa giovare a una al lavoro di un artista fare fare questa esperienza e sicuramente quello che è successo negli ultimi anni mi fa fare oltre al fatto che questa canzone mi racconta mi sono felicissimo di come questa canzone mi racconta il fatto che negli ultimi anni tanti artisti eh con cui mi mi sento affine abbiano fatto questa questo passaggio mi 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 rasserina ma allo stesso tempo credo che da tantissimo tempo capitano delle cose a a Sanremo eh a cui mi sento affine mi ricordo ma non so perché lo sto dicendo spesso in questi giorni ma è il ricordo forse più vecchio che ho su Sanremo e che sono i Quinto Rigo quando arrivarono i Quinto Rigo con Rospo e stiamo parlando di un bel po' di anni fa. Hai una cover molto particolare con Vinicio eh di Fabrizio De Andrè perché questa scelta soprattutto perché quella canzone è una canzone che tra l'altro io amo molto è una canzone eh particolare di De Andrè mh tra l'altro per gli amanti di De Andrè è una delle canzoni insomma eh più particolari che magari il pubblico che conosce il De Andrè più così in modo un po' più superficiale spesso non conosce. Perché questa scelta? perché mi sembrava la cosa più importante da fare e allora la risposta di pancia è questa è un pochino mi sembra che senza cioè stiamo sempre parlando di canzoni di un festival musicale no però per una per chi fa questo lavoro questa è una di quelle occasioni importanti ed è mi vengono in mente i sai l'esempio di chi butti dalla torre oppure chi ti porti sull'isola deserta e non è che ci ho dovuto pensare più di tanto e il mio pensiero è andato lì anche perché io canto per quattro serie una canzone d'amore e non mi sono occupato solo di amore artisticamente e anche proprio come uomo non è che mi interessa solo quello e e pensavo che sentivo che che era molto importante dire anche altre cose e lì ce ne sono mi sembra che c'è quasi tutto in quella canzone lì e quindi ho scelto quella canzone detto questo se non ci fosse stato capo sela non lo so se come si dice a roma me la sarei accollata perché è un è impegnativo mi rendo conto che anche oltre quello che io poi c'è una una specie di reverenza intorno a de andrè che secondo me cioè che un po è bellissimo che ci sia da un'altra parte non non capisco perché è bello che quello che amiamo poi viva e viverlo vuol dire pure prendersi dei rischi e andare a portarlo su un palco quando ti ha presentato agli ascolti ma anche in altre occasioni ti ha raccontato come un grande continuatore innovatore anche della scuola cantautorale italiana ti volevo chiedere una riflessione su questo cioè sulla figura del cantautore appunto oggi e se alla fine poi quel palco lì come hai spiegato tu è una grande occasione in realtà per raccontare chi si è cioè se ci si va in modo naturale la conflittualità con determinate cose che magari possono anche non piacere come la dimensione gara viene superata nel momento in cui tu sei te stesso volevo chiederti una riflessione su questo non so se hai ascoltato una canzone che ha pubblicato di recente Dario Brunori che si chiama ode al cantautore devo dire che quel quel tipo di divisione che che c'è stata in Italia a partire dagli anni settanta tra alto e basso politicizzato non politicizzato di di una certa di un certo schieramento politico oddio questa cioè la divisione sullo schieramento politico in realtà è una cosa che mi che non mi sembra giusto abbandonare ma non ha a che fare con l'arte cioè il mischiare la proposta artistica a questo è una cosa che non mi non in cui non mi rivedo e tra l'altro credo anche scrivendo di aver dimostrato che mi interessa cazzeggiare e parlare di di Dio mi sembrano tutte cose molto importanti della vita e questo quindi questa è la mia posizione e ovviamente penso che la gara non è una cosa che mi piace non è una cosa che che credo faccia bene alla all'arte e soprattutto in questo momento storico noi viviamo cioè la gara permea tutta la nostra vita detto questo credo non lo so mi sembra un po' chiaro sia a chi mi conosce che a chi non mi conosce che cioè se uno mi vede a Sanremo cantare questa canzone mi sembra chiaro che mi interessa essere lì sono felice e onorato di essere lì ma non mi interessa la gara poi tra l'altro invece è una cosa pazza perché comunque tu sei dentro questa in questo momento sei dentro questa bolla e ti arrivano le cose alle le quotazioni tu che cosa sei mi viene la curiosità me lo devo un po' ricordare di quello che ti ho appena detto cosa si prova a fare un'antologia nel senso che tu hai dovuto riavvolgere il nastro della tua carriera prendere i vari pezzi cercare di fare un puzzle che raccontasse il più possibile il tuo percorso ma io immagino che non sia una cosa assolutamente semplice o è venuta spontanea e l'hai fatto tranquillamente allora non è una cosa che credo venga naturale a un artista ma perché uno dice vabbè ho fatto i dischi cioè quella canzone sta là quell'altra sta là quell'altra sta là e quindi da questo punto di vista non è un'operazione naturale dall'altra questa cosa qui noi la facciamo ogni volta che prepariamo un tour ogni volta che facciamo dei concerti quindi in questo senso c'è una grande confidenza che tu hai con il tuo repertorio e anche con questa con le questioni temporali forse quello con cui ti fa confrontare questa esperienza è più la produzione dei brani perché poi quando tu fai un concerto di tour in tour tu in qualche modo compatti il repertorio che hai scelto e non lo senti disgregato io avevo paura che riascoltare poi questo insieme di canzoni mi risultasse un po' strano perché ho preso tante strade ho cercato tante cose nel corso di questi dieci anni devo dire che non è stato così soccontento anche abbiamo fatto un lavoro di rimastering sulle canzoni più vecchie mi piace come stanno insieme mi sembra che sia un racconto non esaustivo perché poi sono rimasti fuori delle canzoni a cui sono molto affezionato ma una buona introduzione perché poi questa cosa è fatta per le persone che non mi conoscono e che potrebbero interessarsi a quello che faccio dopo questa settimana e mi sembra un buon punto di partenza grazie